Per quanto riguarda la composizione dell'Aggiunta, perché secondo la legge deve prevedere una quota di 5 donne, questo accelererà in qualche modo un cambio? Non c'è bisogno del difensore civico, che ovviamente ringrazio per la tempestività, perché l'avevo già detto io. Io semplicemente ho confermato la squadra, dove noi abbiamo un equilibrio giusto, perché le donne sono ben rappresentate, considerando le deleghe che abbiamo date ai consigli comunali. Non appena si insiederà il nuovo consiglio, noi metteremo l'equilibrio giusto, come ho già detto, tra donne e uomini all'interno del consiglio comunale. Ma per ora è completamente operativa l'Aggiunta e andiamo avanti così. Poi appena si insiede il consiglio comunale faremo anche questo aggiustamento.